salve a tutti e benvenuti da ottica gm questo video innanzitutto voglio ringraziare tutti che vi state molto vicini mi iscrivete sempre su instagram su facebook e ringraziando anche un cliente ivan che è venuto direttamente da prato che saluto e ha fatto un occhiale appunto foto aromatico grazie a tutti che ultimamente ho spedito anche gli occhiali in scandinavia vi ringrazio non mi aspettavo questa cosa io spero sempre di essere utile nei miei video però grazie 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 dopo la sigla partiamo transition signature famiglia 8 generazione 8 anzi sigla eccoci qua transition generazione 8 le ultime in assoluto direte voi cosa è cambiato rispetto alle altre che se guardate bene uno dei miei primi video se non proprio il primo tratta proprio di transition era generazione 7 praticamente il cambio che c'è stato tra una e l'altra è nella velocità dell'oscuramento praticamente le 8 sono molto più veloci nell'oscurirsi e nello schiarirsi e diventano molto più scure perché quando transition fa un salto in avanti di generazione va sempre ad aumentare la scurezza quando siamo a sole pieno le famiglie sono sempre 3 signature style color quella con i colori più fashion signature classiche quindi marrone e grigio e extractive grigio marrone e queste sono quelle come vedete si attivano anche alla guida come avete visto fashion signature classiche e le extractive quelle che si attivano anche dentro l'abitacolo e la macchina faccio vedere in un breve video quanto si attivano praticamente sono perfetti le extractive all'esterno che diventano scure proprio come un occhiale da sole ci mettono circa quattro minuti per diventare chiare normali però all'interno delle stanze uffici certe nei posti chiusi in generale sono chiare normali queste che ho indosso sono proprio loro quando uscite da un negozio eccetera si scuriscono in tempo zero vediamo un po' di avete visto lo scurimento è immediato mentre nel video di prima in macchina si attivano circa un 30 per cento perché dobbiamo contare che dentro abitavolo e la macchina siamo non siamo a sole pieno quindi siamo riparati come se fossimo all'interno in una stanza e più abbiamo i vetri e il parabrezza che praticamente cosa fanno ci schermano il 30 35 per cento di ultravioletto che arriva quindi si attiveranno il meno possibile 30 per cento che chi non soffre di fotosensibilità acuta non gli darà fastidio io ci guido tranquillamente e non mi dà fastidio certo se ho il sole proprio improvviso sì non mi taglierà come una lente polarizzata la reattività della lente migliora perché praticamente quando inizia il processo di schiarimento nei primi 10 15 secondi iniziamo avere già subito la soglia del visibile quindi se entriamo in negozio per chi ci vede ci vedrà la lente scura ma noi vediamo perfettamente e quindi migliorata anche la velocità comunque le signature classiche praticamente non si scuriscono dentro abitavolo e la macchina ma resta sempre circa un minuto nello scurimento e poi è meno alla fine e un minuto nello schiarimento i colori sono sempre loro praticamente ambra amethista smeraldo zaffiro grigio marrone grigio verde e poi ci sono le classiche marrone grigio verde e grigio normale queste sono le extractive e queste sono le normali che abbiamo più colorazione le signature classiche quelle non si scuriscono dentro abitavolo la macchina per l'extractive abbiamo solamente tre colorazioni qua il range di colori è sempre lui che diventeranno grigio scuro tutte non sono della famiglia extractive ma sono della famiglia delle signature classiche praticamente diventano scure un grigio scuro al sole piano e di normale saranno con questo leggero sfumatino da rosa celeste o grigio riconfermano la gamma delle flash to mirror quindi le foto aromatiche specchiate nel momento diventa scuro avremo la specchiatura vedete qua è già attaccata qui meno si vede qua per esempio si vede molto bene e queste sono tutte le particolarità che ci sono delle lenti transition hanno riconfermato detto queste qua e praticamente hanno aggiunto la sfumata comunque sulle specchiate ci farò un video a parte sulla sfumata andatelo a vedere perché ho già fatto il video con il foto aromatiche sfumate bene come sempre spero di esservi stato utile per qualsiasi cosa scrivetemi qua sotto o scrivetemi anche su instagram e facebook www.thagm.com per qualsiasi cosa sono a disposizione seguite il canale mi fareste piacere e noi ci vediamo al prossimo video ciao